ciao a tutti bentornati sul canale oggi voglio parlarvi di due prodotti che da campioncino sono diventati per me un acquisto full size ci tengo tanto a fare questo tipo di video perché io amo i campioncini per me sono fondamentali per quanto riguarda l'acquisto di prodotti soprattutto makeup tipo bb cream cc cream fondotinta e prodotti per il viso in realtà anche per prodotti per capelli perché grazie a dei campioncini ho scoperto alcuni prodotti che poi mi sono piaciuti tanto che poi ho comprato a taglia grande praticamente voglio partire dal primo prodotto che io ho provato in campioncino che mi è piaciuto tanto sono soltanto due ve ne mostro due per ora la crema viso rassodante anti rughe papaya e mango questa è della marca nati che è una marca del mercato eco solidale fa parte appunto della della marca altro mercato allora io in passato ho provato anche altri prodotti di questa marca mi piace è buona ha un prezzo un pochino più alto rispetto ad altre marche però comunque la reputo molto molto valida e penso che in qualche modo il prezzo il prodotto valga il prezzo che costa ai primi posti degli inci vediamo acqua argania all'olio di argan olio di cocco e il l'estratto del dell'aloe quindi comunque già i primi ingredienti hanno sono ingredienti comunque funzionali a un veramente un bell'inci e niente vi faccio vedere la full size allora questo campioncino me l'ha omaggiato una una commessa gentilissima del ticotà mentre il ticotà della mia città sono veramente molto molto gentili tutti quanti tutte le persone che lavorano all'interno del negozio sono sempre molto molto disponibili io mi trovo sempre bene quando vado ad acquistare lì e ti ascoltano ti aiutano ti guidano negli acquisti e anche quando casomai c'è tanta tanta gente c'è sempre qualcuno che è pronto ad aiutarti soprattutto per quanto riguarda la zona makeup creme viso profumi insomma queste cose qua e appunto mi era stato omaggiato questo campioncino in realtà due di questa crema e due della crema largan delle driadi mi pare il balsamo che in realtà avevo già provato in passato però ecco avevo il dubbio se ricomprarlo o no un bel po di mesi fa in realtà forse addirittura la scorsa estate mi avevano regalato questi campioncini proprio perché ero nel dubbio non sapevo che tipo di crema acquistare perché la mia pelle era cambiata perché in passato avevo avuto problemi con l'olio di argan però allo stesso tempo avevo provato un passato ancora più remoto la crema all'edria dell'olio di argan non mi aveva dato fastidio quindi ecco ero nel dubbio la commessa gentilissima mi disse guarda prova i campioncini vedi come va ti faccio provare anche questa perché è veramente ottima e l'effetto è buona l'ho provata sia l'estate scorsa sia in questo periodo quindi non mi sono dedicata in inverno pur essendo una crema molto ricca perché per pelli esigenti ed è soprattutto una crema rassodante anti rughe ma anche molto nutriente la profumazione è buonissima e in questi ultimi giorni ho deciso di riprovare il campioncino e avendo lo sconto del 5 euro che me l'hanno regalato un pari una decina di giorni fa e avendo visto che questa crema era in offerta a 16 euro e 70 mi pare invece che non so quanto costa su 18 20 euro non mi ricordo insomma a un prezzo abbastanza alto rispetto alle altre creme allora ho deciso di abbinare lo sconto all'offerta visto che si poteva fare ho deciso di comprare la full size e quindi eccola qua crema viso rassodante anti rughe mango e papaya per pelli esigenti e qui c'è scritto che è ricca di sostanze funzionali appositamente formulata per rallentare gli effetti del tempo per restituire compattezza alle pelli mature per nutrire e rassodare io vorrei aprirla qua con voi anche se c'è lo scotch perché volevo farvi vedere che mi pare abbia anche la confezione di vetro infatti mi era piaciuta anche per questo perché la confezione non era in plastica vi faccio vedere è una confezione bellissima di vetro opaco eccola qui è una crema che non ha parabeni sless sls siliconi oli minerali formaldeide e altre cose che preferiamo evitare nelle creme quindi acquistato questa crema e sono andata per acquistare questa crema però ho visto nel reparto delle driadi che c'era una crema nuova di una linea nuova mi pare la cerola cerola insomma come si chiama c'è con vitamina c non mi ricordo bene gli ingredienti casomai ve lo scrivo nell'info box qual è la nuova linea mi pare ci fosse anche la rosa comunque molto ricca di vitamina c una crema antiossidante ricompattante insomma ho deciso di provarla sopra la mano e mi ha colpito tantissimo perché aveva un effetto proprio rimpolpante lisciante lenitivo veramente una crema ottima tra l'altro costava anche poco mi pare sui 9 euro e 90 quindi avevo questo buono di 5 euro ho detto oddio mi butto su questa natire che ho provato o mi butto faccio un acquisto blind blind buy e compro una cosa così appunto alla cieca e ci metto su 4 euro con il buono sconto di 5 la provo la commessa mi ha visto un attimo in difficoltà probabilmente ho la faccia di chi stava ponendo domande esistenziali davanti a una crema quindi gentilissima è venuta mi ha chiesto se poteva aiutarmi ho descritto un po' la cosa che volevo acquistare questa ma mi affascinava l'altra ho detto guarda vedo se ho qualche campioncino perché sono andati a ruba te lo faccio provare caso mai e vedi però purtroppo i campioncini erano finiti e questa crema è andata veramente a ruba è l'ultima uscita ma era ce n'era praticamente soltanto una confezione e il tester quindi ho deciso ho pensato comunque ok visto che questa è un'offerta in più il buono di 5 euro mi viene a costare 11 invece che 30 praticamente la metà invece che 20 più o meno la metà se non meno della metà ho detto vado su questa che l'ho provata e caso mai più là adesso che è un po più caldo provo anche l'altra delle briadi e la commessa mi ha detto comunque guarda se riarrivano i campioncini te ne faccio provare qualcuno ma allo stesso tempo è stata gentilissima perché mi ha riempito di campioncini qui c'è il gel detergente purificante della linea argilla rosa e pompelmo questa lavena calendula che è un'ottima è veramente un'ottima linea questo è il burro pronto sollievo viso e corpo e ho provato il fluido ottimo e mi stava consigliando questa crema questa crema tonificante viso però la parte l'effetto però la versione in gel però io non amo il gel ma lei mi ha fatto capire guarda potresti provarla perché ti può piacere il detergente intimo anche il contorno occhi questo della ecos è l'unico prodotto della ecos sos anti imperfezioni la linea timo e lavanda che per i piedi che sia un gel defaticante sia un balsamo emolliente per l'estate ottima mi affascina anche perché timo e lavanda come profumazione mi fa impazzire l'olio doccia sublime della linea argan e argan che praticamente la prima linea che è uscita fluido destressante corpo aloe ginkgo bagno latte addolcente avene calendro quindi è stata veramente gentilissima ripeto sono sempre super gentili da tigota almeno nella mia città sono fortunata e questo insomma l'acquisto di cui volevo parlarvi il secondo acquisto viene sempre dalla prova di un campioncino io vi mostro questo questa nuova versione del campioncino ma in realtà ho provato la vecchia versione del campioncino il fondotinta sublime della puro bio questo è il numero 0 5 io pensavo che il mio colore fosse un po più chiaro quindi quando dovevo scegliere su siti tipo per provare questo tipo di prodotto sempre cliccato il 3 proprio mi sono resa conto che era un po troppo chiaro allora ultima volta che ho fatto degli acquisti mi pare su ecco verde clicca il 5 e un mese fa intorno ad aprile mi pare metà aprile dopo pasqua forse provai il campioncino numero 5 il colore era perfetto che è il colore praticamente che c'ho adesso io addosso ho detto no lo devo acquistare ho detto fammi vedere se su vintage c'è qualcuno perché ci sono veramente tante persone che hanno bioprofumerie o rimarenze di bioprofumerie quindi trovate versione sia vecchie sia nuove di alcuni prodotti e quindi ho trovato ecco questa questa persona che aveva vari prodotti vari colori vendeva sia campioncini sia le full size quindi mi sono imbattuta nei campioncini non mi ricordo il prezzo erano tipo 12 campioncini del numero 5 1 ml a campioncino ha detto dio 12 ml di prodotto sarebbe tipo una mezza non è una mezza non è una full size sarebbe una mezza taglia però ho detto vabbè ma mi piace voglio comprare la full size allora ho chiesto per caso è anche le full size sì e quindi eccolo qua il numero 30 e non mi ricordo quanto l'ho pagato casomai ve lo scrivo nell'infobox comunque l'ho pagato meno di un di un prezzo pieno e in più è stato gentilissimo ho messo dentro 12 campioncini dello stesso prodotto della stessa colorazione quindi comodissimo ad esempio nei viaggi da portare in giro se non vuoi portarti la full size comunque ti puoi portare il campioncino è un prodotto vegan vegano e il sublime fondotinta liquid foundation numero 5 eccolo qua e anche questo da campioncino l'ho fatto diventare prodotto grande in taglia grande l'ho acquistato perché mi è piaciuto è perché ho potuto provarlo soprattutto ecco i fondotinta le bb cream le cc cream è fondamentale secondo me provare la taglia piccola o se ci sono le taglie piccole le mini taglie o meglio ancora i campioncini perché lo vedi proprio sulla tua pelle se il colore è giusto la resa che c'hanno cerco certo da un campioncino non ti puoi fare un'idea super ad esempio di una crema perché comunque è nel tempo che tu vedi la come reagisce la tua pelle però almeno vedi se è un prodotto che può fare per te o se proprio non è il caso ci sono dei prodotti casomai che ho provato che erano troppo troppo leggeri per la mia pelle se l'avessi comprati insomma in taglia grande avrei soltanto buttato dei soldi avrei comunque dovuto ricomprare qualche altra cosa per ad esempio un siero un olio un qualcosa per per renderle più adatte alla mia pelle e quindi avrei speso comunque più soldi sempre da ticotà mi hanno dato l'opportunità tempo fa di provare però ve l'ho mostrato in un altro video sempre da campioncino a taglia grande dell'argilla rossa e pompelmo le cc le bb cream mi avevano dato sia la colorazione chiara e media scura per me è stato fondamentale fare quella prova perché ho scelto la colorazione giusta stavo andando in una direzione invece poi provando il campioncino ho visto che era meglio un'altra colorazione allora vi saluto vi saluto qui ecco il mio video finisce qua spero che vi sia stato utile vi sia piaciuto fatemi sapere che ci siete e se vi è stato utile con un like o con un commento è importante per me che in qualche modo ci interfacciano che mi fate sentire la vostra presenza e fatemi sapere soprattutto nei commenti se anche voi amate provare campioncini prima di provare un prodotto e di acquistarlo in taglia grande oppure se vi piace buttarvi e fare acquisti così alla cieca e come va va provo altrimenti non fa niente io sto scoprendo con il tempo quanto è importante almeno per quanto riguarda me l'utilizzo e la prova dei campioncini fatemi sapere il vostro punto di vista più che altro la vostra esperienza io vi saluto qua vi mando un bacio grandissimo ciao al prossimo video